Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video. Sono FIFA 17 telecronista e oggi sono qui con mio fratello. Hello! E oggi siamo qua su FIFA a farci una partita di Ultima Team. Come dovete vedere, siamo qua ad entrare in partita. Siamo qua in casa e vi faccio vedere la squadra con Keylor Navas. Oh no, c'è Judy Fallouk che è infortunato. Dovremmo cambiarlo. Per molto veloce e sta per vendersi al Milan. Il scontrato per Carvalho è fatto. Fernandinho è fatto. E Defoe è fatto. E ora si parte con la squadra con Keylor Navas, Piquet, Reid, Abziliguetta, Carvalho, Judy Fallouk, Per l'infortunato, Andre Herrera, Fernandinho, Sterling, Defoe e Morata. Dovremmo cambiare Judy Fallouk. Oh no, se abbiamo... Non abbiamo fitness... Non abbiamo fitness... Non ce l'abbiamo. Dovremmo cambiare. Dovremmo cambiare le ingiure. Dovremmo cambiare le ingiure sopra il corpo. dobbiamo fare il contratto? no no niente vabbè si può anche iniziare a giocare forza ragazzi ok cambiamo di deflu mettiamo dentro dear e anche lui veloce c'è mcgregor come mcdonald vabbè non abbiamo intesa si parte si parte io aiuto mio fratello il nostro cooksters manchester man united si parte in difficoltà professionale si yes e si parte è molto difficile da difficoltà e si può partire facciamo no si inizia la partita benvenuti vi do una buona visione e partiamo allora si parte con dear attenzione 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 all'avversario funzione... oh oh bellissimo si parte osori si parte ancora con cui si parte passo la palla il mio fracugino passo la mia fracugino ok 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 No No Se l'ha preso l'avversario Eh ve l'ho detto Questa è difficoltà Molto difficile Attenzione Questa è un'occasione Da gol No Nava Cosa? Ho fatto il mio cugino? Il mio cugino è sopra il blu E io il rosso Ma cosa ha fatto il mio cugino? Non ci credo io Uh Bellissima azione Dell'avversario Ci parto con me Ok Ok Dyer Dyer Che la passa a Fernandinho Per Sterling Sterling Non fallo Non c'è fallo qua Non fallo E si parte ancora con l'avversario L'avversario Atenzione Fernandinho Fernandinho Sterling Attenzione Bella azione Ok Oh no Oh no Bella difesa su noi Ok Si parte Si parte Dai ragazzi Morata Oh no Oh no Non volevo fare una bella finta Però non ce l'ho fatta Scusate Scusate ragazzi Scusate ragazzi Attenzione No No Per piacere Ok C'è la difesa Ok Spazzata No No Ok Ok Cosa è successo No 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 Non per piacere Non per piacere No Oh Navas Ok Bel passaggio di tacco Oh Attenzione Attenzione Che qua Attenzione No Niente Niente da fare Ok No Non è venuto Attenzione L'avversario L'avversario ci fa paura Ok 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 Si parte con Navas Navas Per Mio cugino Non ce la fa prenderle Per piacere No Navas Ok Navas Si parte con Navas Yes Navas Ok Ok Si parte con meno Di mezzo Che lo Navas In primo tempo Attenzione Attenzione Ok Si parte Si parte Yes 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 Pass No Potevo passarla Attenzione L'avversario Oh 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 Non fallo Non fallo Ok Per piacere No 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 Oh Bella difesa Oh 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 no 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 Per piacere Oh Bello Bella difesa Dal mio cugino Non è mai più semplice Come pensi Per farlo A un di voi Attenzione Attenzione No Morata No Ok Eravamo distratti Su una cosa Ok Ok No Per piacere Oh no Ci stai imparrendo No No Ok Ok Il tackle Il tackle Il tackle Ok No 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 Non ci credo Non ci credo Vabbè 1-0 Finisce Il primo tempo Ragazzi 1-0 Per l'avversario Dovremmo cambiare Con Dovremmo cambiare Con Hector Bellerin E Basta Basta Dopo Mettiamo Memphis Depay Si parte Con l'avversario Che Inizia il secondo Tempo E forza Ragazzi Continuiamo A vincere Bel tacco Bella difesa Ok Ci stiamo Svegliando Oh che brutto Passaggio Scusate Attenzione Oh Attenzione No Per piacere Bella Bella Ok Si parte Ok Si Bel tiro Bel tiro Bella Attenzione No No per piacere Siamo in contoprede Siamo in difficoltà Troppo Siamo di troppo Noi Noi siamo di troppo Attenzione Ok 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 Non scivolare Ok Si parte Ok 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 Oh 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 Bella Attenzione No C Però Questo è proprio fallo Mi sembra Stupido Stupido Riferito Stupido Albitro Ok No 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 Ok Bellerino Mio dio Quanto veloce Dovremmo vincere Dai ragazzi Forza ragazzi No Cosa ho fatto Dovevo tirare io Bello però Dai Si continua No Per piacere No 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 Bellerino Bellerino Ok Ok Si parte con Navas 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 No 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 Non era andato avanti Il mio cugino Attenzione Attenzione No No Dai Dai Vai Vai portiere Vai il portiere No Ok L'ho salvata io Finalmente Si Siamo ritornati C'è troppo fatica Però eh Oh ma Ragazzi Attenzione Attenzione Stiamo No Ok Che bella acione Che ha fatto L'avversario Ok Andiamo con me Me Per Pichè 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 Oh Oh bella Cosa No Cosa ho fatto Sono stupido Ok Ok Per piacere ragazzi Dovremo vincere Mettiamo Mettiamo Deppai Sì Vai Ci parte Con il numero Sette No Poteva Vedeviare Cosa No Ok No Ok Salvala Sì Sì Ok Ok Dai Forza Ragazzi Attenzione Attenzione Oh Oh no Cosa ho fatto io con Navas Cosa ho fatto No No Ok Oh no Oh no Oh no No ho fatto niente Non ho fatto niente Oh Non c'è cartellino C'è cartellino? No Ok Non c'è L'ho salvata Per piacere No Ok Navas Vai Vai Navas Dai Navas No cosa ho fatto io Ok Porca Che Che Oh mio dio C'era Ora Dovremmo andare avanti Salute Ok Ok Oh Ok Please Per piacere Dobbiamo Pareggiare O vincere Se vinciamo Meglio Se no Niente Bella Navas Bella Navas Dai No Nostro No E' finito Facciamo un'altra partita Menon di match No E' l'avanzi del E' anche Sir Gusson E' Facciamo un'altra partita E' stato match Facciamo un'altra partita Come dirvi Abbiamo Perso Ancora un'altra partita Match Facciamo un'altra partita E' Non si può Non so perché Non si può Allora Allora GdFlu sta bene E vuole il contratto Ora Vuole il contratto No Non possiamo Non si può Andiamo a comprare dei contratti Per GdFlu Vediamo Per 13 Per 13 13 13 13 13 11 No No Non si fa Niente No Niente No Dai Dai Perché non si fa Oh Dai FIFA Non far così con noi Dai Perché non ci fai comprare Dai Non si può Perché non si può Perché Dimmi Perché non si può Lì 200 No Oro Dai Perché non ci fai Comprare FIFA Non fare così Con noi No Niente Devono essere 200 250 Dai Sì Una Sfatta Due fatte Ok FIFA Grazie E ora Per GdFlu GdFlu Finalmente Potrà giocare Dai Ok Si può giocare Dai Come on Dai ragazzi Se facciamo un'altra partita Vai Saluti O no Il pacco Opening Facciamo giocare GdFlu Al posto DdR Bellissima partita DdR Per Bellerin No Mettiamo dopo After E anche Depay Dopo Il resto Gioca La seconda partita Aspettiamo un attimo Sistema La squadra O play Si parte Ho sbagliato Il tasto Gioco Anch'io Per piacere Ok C'è la Difficoltà Facile C'è Il Principiante Pass Oh Oh My god No No Si fa Nia Le no Oh Che finte Yes No Ho sbagliato Io Quickly Get Coin Coin Oh Ho sbagliato Io No Niente Da fare Faz Dai No Si Ok Ok Finalmente No Oh Si parte ancora Han preso Misle Ok No Iniziamo la partita Forza ragazzi Ora dobbiamo vincere Attenzione Il mio cugino Come belle Attenzione 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 Traversa GDFLu Ha iniziato bene No No Ok No 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 Si parte ancora così eh Eh dai eh Ok Dovremo passare a vicino la palla Ok Ora dobbiamo concentrarci Forza ragazzi Forza Gustaz Gustaz Ok Nostra No No E' free kick per L'avversario Oh Oh Si si No 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 per piacere Noi che siamo in difficoltà facile Difficoltà facile Si parte 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 Vabbè Dai bella No 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 Ho disconcentrato Navas Oh Bel passaggio Di petto Si parte Morata Morata Per Defoe 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 Non Voleva Voleva passare Ma non ce l'ha fatta Dai ragazzi Però Forza ragazzi Dovremmo vincere Oh Perché Che è successo Che è successo Oh Fuori gioco Perché Oh no Per piacere FIFA non far così FIFA non far così No FIFA non far così Sì Ok 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 Inconcentriamoci Oh no Non dovevo passare Dovevo passare Io Ho sbagliato No Fallo Sì Fallo 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 Ok Bella Bella qua No No C'è la difesa No Cosa è successo Oh no Oh no Oh no Oh Oh No Marat Dai Cosa è successo Oh no Cosa è successo Oh Rimessa No Ho sbagliato Ok Ok Dai ragazzi Non dobbiamo fare il 3-0 Eh Eh ma questa era anche Palla di mano Oh 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 Ah Ripeto No 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 Perché Bravissimo Perché Il più forte Di tutta la squadra No 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 Dovevo passarla ancora No Ho sbagliato Ho sbagliato io Ho sbagliato io No 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 Oh Siamo troppo Non c'è di dire che dovrò perdere ancora No Dai Dai No No Per piacere Bella Si parte Ha sbagliato Ha sbagliato Ha sbagliato Si 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 No No Ma dai Cosa è successo qua con il mio cugino Cosa è successo No No Cosa è successo Defoe Dai Sembra 90.000 100.000 Di Cento Tra La partita Era finita Scusate Era finita E Qua c'è E vediamo Siamo La schermata Della partita Di Ibrahim C'è un bel Gol Dovete proprio Vederlo Guardate Che spettacolo Visto È arrivata la nuova carta di Ibrahimovic Hero Player on the Mount Ok 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 Oh Non gioco Vediamo Le sostituzioni Vediamo Sistemiamo La squadra Cosa sta facendo Niente Ok Gioca Si gioca Ok Ok Si gioca Scusate ragazzi Ok Ok Si parte Si può partire Con gli allenamenti No Il Gedefoe Che tira Funizione Senza barriera Bel gol Un attimo Ora c'è la barriera Attenzione Gedefoe Sto facendo La precisione La precisione Attenzione Gedefoe Attenzione Che bello Ok Si inizia la partita Niente Si parte Alvaro Vorata Da seguire Forza Ragazzi Oh Oh No Cosa è successo Alps Liguette C'è l'avversario Con Vinter 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 Che la passa Per Toco Toco Che fa Sopra tutti Per Bus 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 Navas Attenzione Navas Ancora Navas Che la passa Per Sterling 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 Per Herrera 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 Per Ancora Herrera Herrera Che la passa Per Defoe 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 Oh Bel Tacco Attenzione 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 No Niente Niente da fare Niente da fare Attenzione Niente 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 Goal Fattiamo Il segreto Il segreto Vediamo Se ce la fa Sì Bel gol Andre Herrera 1-0 Per noi E si parte Con Aga Per Gaudino Per Tocco Tocco Per Tocco Ancora Tocco Gaudino Bus Bus Per Ancora Gaudino Alecchi Alecchi No Fernandinho Fernandinho Attenzione Niente da fare Si piquet 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 No Niente Si parte Con Taffer Taffer Che la passa Per Bus Bus Supera 1 Supera 2 Sono 4 4 4 Attenzione La difesa Con Andre Herrera Herrera Per Default Default Per Morata 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 Per Fernandinho 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 Per Morata GOOOOOOOL 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 Morata La gara gara Questa è il gol Più bello Del mondo E si parte Con 2 a 0 Morata Herrera Diamo il diciundesimo Minuto E rafforza Ragazzi Oh no No va bene Si parte con l'avversario Con Mus Jaffer Jaffer Oh 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 Ok Morata 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 Che continua Da solo Morata Per Regione Le flu Le flu Le flu Le flu Le flu Attenzione Dove Dai forse ragazzi Che ci parte Con gli attari Taffer Taffer Per No Niente Oh Bel attacco La difesa sulla scivolata Attenzione Si parla con Senni Sterling Non c'è In mezzo Nessuno Ci sono due Ci sono due Il portiere Che la prende C'è Lopar La parca La passa Per Bus Bus Defoe Bel passaggio Oh no Attenzione Si parla Si parte Con Bus Per Viffer Oh Attenzione Si parla Con Muschi Per Taffer Muschi Tocco No Si parte Con noi Defoe Defoe Per Sterling Sterling Vai in mezzo Defoe Attenzione Si parte 3-1 Morata 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 Che ora Ci salva La vita Morata Sempre Lì Morata 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 Siamo qua Con Morata 3-0 Contra Morata Morata Ok Si parte Con Bus Beh Alexi No Defoe Defoe Scusate Si Defoe Oh Defoe 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 No Bell'azione Su Niente Da fare Sul tiro Niente Da dire Attenzione No Bus Che va Avanti Per noi Si sono Incontrati Davvero Oh Attenzione Defoe No Si parte Con il ridio Di testa Di testa Sparte Molto 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 Questo Molto Questo Si parte No Attenzione No Niente Da fare Niente Da fare Cioè Oh Bus Bus La spazza E viene Da Reed Reed Oh Tiro Infinita Sterling Sterling Per allenamento La fa Sterling Chiamo La mano Sta chiamando La mano Sta chiamando La mano Attenzione Oh Oh Bella difesa Ero si parte Con Mus 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 C'è Oh No Vassa E la traversa Che ci salvano La vita Questo Dobbiamo fare Meno On The Match Attenzione Carval Per Defoe Defoe Può tirare Defoe La spazio Lopar C'era Poteva arrivare Quasi Su un paro Se non La prendeva Finito Il primo Tempo Oh Otto Tiri Per noi E sei Sei Tiri Si parte No Non Non Facciamo Cambi Non Facciamo Cambi No No Leave Bellarinton Se Facciamo Il 4 A 0 Possiamo Prendere Bellarinton E Memphis Depay Oh Ho già Iniziato Io Ok Ok Bus Alex Ok Ok Si parte Con l'avversario Non posso Dire il nome Ora Dell'avversario Perché Sono Occupato Anch'io Perché No Perché Ok No No Oh Navas Bene Bene Non Di Match Dai Proprio Lui Dovrebbe Dovrà Essere Cosa 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 Successo Che è successo Che è successo Che è il passaggio Lei No No È nostra Sì è nostra De 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 Oh Attenzione De Oh No Ok 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 Si parte Con noi Si parte Con noi No Ho sbagliato Io De Attenzione 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 Oh Che schifo Oh Mio Dio De 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 To Di Stop Ok Ok si si oh no bel passaggio per il mio cugino il mio cugino cosa stai facendo il mio cugino parte il mio cugino no 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 c'è qua la gorilla la gorilla sono stato io a tirare scusate per cugino dovremmo cambiare hacktor bellerin e mempiste pai anzi dopo dopo tanto stiamo qua per vincere cazzo no 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 niente stupido alietro doveva essere cartellino questo no oh continua a fare delle skill il mio cugino oh 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 no oh no attenzione si parte con noi ok no ok attenzione shhh oh 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 bello bello! bello! pass! box! box! vai vado nella scuola! no! questo dovrebbe essere fallo eh! ha fatto e voleva fare come Pogba! e questo davvero vuole fare come Pogba! oh! wait! wait! è che doveva essere rigore ok ok io sono il colore blu ok ok no si parte si parte no cosa sto facendo mi cugino cosa sto facendo oh no no ok l'ho spazzata questi per noi ho fatto il giusto finalmente si è un bellissimo passaggio quello che ha fatto mi cugino ok ok se non era fuori gioco potevo fare gol di tacco ok 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 no finita è finita è finita ce l'abbiamo fatta 4-0 Morata Morata il MENONDEMACH no MENONDEMACH Morata Morata ok è stata bella partita finisce io vi dovrei salutare vi do il vi do il benvenuto vi do un saluto un abbraccio un salutone dal vostro dal vostro FIFA 17 telecronista io vi do un gran saluto ci vediamo domani ci vediamo domani al prossimo video bella ragazzi vi saluto il mio titolo salut goodbye ciao ciao ciao